Prova a sentire se ti sentono. Attaccare! Più forte? Non ho più voce. Più forte, perché è nello stadio. Attaccare! Ma dai, più forte! Attaccare! State a vedere. Attaccare! Io avevo conosciuto Capello come giocatore. Poi avevo pensato che lui avrebbe potuto essere un buon dirigente di una squadra, di una società sportiva. Lo invitai a frequentare una scuola per dirigenti. E poi gli richiesi di applicarsi come direttore a altre squadre sportive del mio gruppo. Lui si dedicò, fece bene e quindi al momento in cui io ebbi la necessità di avere un nuovo allenatore, ne parlammo e lui divenne l'allenatore del Milan. Con tutta la stampa contro che diceva Berlusconi vuole fare lui l'allenatore e quindi ha messo in campo un suo maggiordomo. Non era così e Capello lo dimostrò. Ma lei da presidente ha mai imposto una formazione al suo allenatore? Imposto no, suggerita sì. Molto spesso io con tutti gli allenatori ho sempre discusso sia del modo di stare in campo sia dei giocatori per ogni singola partita. Qualche volta sono stato in disaccordo con l'allenatore e in questo caso ha sempre vinto l'allenatore. Con Sacchi per esempio noi inventammo la formula di un Milan che doveva scendere in campo per essere padrone del gioco e padrone del campo, per giocare divertendo, rispettando gli avversari e quindi facendosi applaudire anche dai tifosi della squadra incontrata. Cosa era il segreto dell'epoca Ancelotti? Grande lavoratore, aperto a ogni nuova idea, in sintonia totale con me per quanto riguarda il modo di schierare la squadra e una grande capacità di rapporto con i giocatori. L'allenatore non deve essere soltanto bravo tecnicamente, deve essere un padre e Ancelotti io lo chiamavo il grande padre di famiglia dei nostri ragazzi. Sacchi, Capello, Ancelotti, con chi si sentiva più in sintonia? Con tutti e tre avevamo il piacere di stare insieme, di lavorare insieme, molto spesso si lavorare insieme restando a cena il giorno prima della gara e quindi ho mantenuto con tutti e tre una forte amicizia, con tutti ci sentiamo, mi sono vicini nei passaggi difficili anche della mia attività politica. Ci sono stati altri allenatori, con questi altri allenatori che sono durati poco, evidentemente non sono riuscito alle gare e quindi ne ho trovati degli altri.